Buongiorno cari amici, buongiorno amici sanremesi e non. Ieri sera per fortuna c'era Enrico Silvestrin col suo Contro Festival che ci ha dato la possibilità di seguirlo in maniera sana. Poi se ne è discusso il gruppo Telegram, insomma, è sempre un argomento di discussione che ci permette anche di toglierci un po' dagli umori del calcio. Ma oggi torniamo a parlare di calcio. Torniamo a parlare di calcio e parliamo di Milano, ovviamente. Lo facciamo perché sulla Gazzetta dello Sport è uscito il classico articolo che ci racconta della nostra situazione finanziaria, economico-finanziaria e delle perdite legate al fatto che non siamo agli ottavi di finale di Champions League, al fatto che non andremo al mondiale per club, eccetera, eccetera. Tutti articoli che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che sono conti che ormai per esperienza posso dire è molto difficile fare ed è anche molto più sano non fare perché loro questa cosa la sanno fare bene. Il calcio è magari un altro discorso, ma dal punto di vista economico, dal punto di vista di soldi, sanno bene come muoversi, si sanno bene e sapranno bene che cosa fare la prossima estate quando, al di là di tutto, è vero che mancheranno i soldi della Champions, però si faranno altre operazioni che porteranno il nostro Milan ad avere comunque una situazione stabile dal punto di vista economico perché questo è l'obiettivo, l'obiettivo è quello di mantenere i conti in ordine, andare avanti col progetto dello stadio e poi fare insomma quello che serve per cercare di mantenerci in linea di galleggiamento perché poi alla fine un conto noi lo possiamo fare ed è quello legato alla presenza di Champions League. La presenza di Champions League ci consente di stabilmente mantenere il nostro equilibrio e quindi io non lo so se ci saranno altre cessioni illustri, non so se arriverà il fantomatico centravanti, non so che cosa sarà, lo vedremo, vedremo anche un po' poi dal punto di vista societario come evolvono le cose perché la sensazione che si ha è che ci sia del movimento intorno al Milan, quindi vedremo. Ho letto diversi messaggi interessanti che riguardano anche questa vicenda che sottolineano il fatto di come di questa proprietà insomma non tutti siano contenti ma che potrebbe andare anche molto peggio, sì effettivamente potrebbe andare peggio, come diceva Igor potrebbe piovere sicuramente, ma potrebbe anche andare peggio nel senso che potremmo avere anche una proprietà che va in grande difficoltà nel gestire una macchina molto costosa come quella del Milan, abbiamo rischiato di finire ad esempio in mani di altri imprenditori americani che probabilmente avrebbero avuto più difficoltà a gestire la nostra squadra, quindi sono articoli che escono periodicamente, il perché non lo so, non so se servano a far digerire eventualmente a tifoso milanista una cessione illustre ma poi la questione è sempre quella, la questione è cosa si fa con gli investimenti, cioè cosa si fa con i soldi che si prendono, si fa bene allora vale la pena cedere qualcuno, si fa male allora poi crescono i rimpianti per quelli che magari sono andati via e che rappresentavano qualcosa di buono per la nostra squadra, lo vedremo insomma, lo vedremo. Un altro argomento interessante è quello legato alla guida tecnica, sappiamo insomma che Pioli è al centro dei dibattiti per tante ragioni, qui ne abbiamo parlato tantissimo, ne abbiamo parlato fino allo sfinimento con qualcuno che sostiene insomma che Pioli sia un po' la colpa di tutti i mali, avvallando un po' la mia teoria del parafulmine, ma qualcuno invece si pone un interrogativo ed è un interrogativo molto interessante, anche ieri in Torch è arrivato un vocale, mi pare di Francesco, che ci domandava che cosa un altro allenatore avrebbe potuto fare con questa rosa, si cominciano già a fare i nomi di quelli che, anche se in realtà negli ultimi giorni sta un po' scemando questa cosa, cioè l'andazzo, non so se perché abbiamo vinto sabato, dato che poi gli articoli di giornale sono molto legati ai risultati, stiamo parlando di uno sport che vive dei risultati, quindi alla fine quello è un fattore decisivo, ma dicevo negli ultimi giorni si sta cambiando un po' l'andazzo, si sta tornando verso un elogio nei confronti di Pioli, nei confronti del suo lavoro, e una direzione diversa per quelli che sono gli allenatori che erano stati accostati al Milan, oggi si parla di un Tiago Motta che interessa anche la Juventus, Conte che aspetta la Juventus, Tiago Motta che non andrà al Napoli perché secondo Napoli vuole andare all'estero, ecco, vedremo che cosa succederà, tutto questo in questi giorni ci fa pensare a quello che io vi ho detto qualche mese fa nel famoso video, il dopo Pioli e Pioli, quindi vediamo che cosa succede, ripeto, è tutto legato ai risultati, è legato anche a un'altra cosa, al fatto che comunque la squadra è con Pioli, questo è un dato incontrovertibile, la squadra è con Pioli perché per impegno, per serietà, e questa è una cosa che io ho sempre sottolineato e voglio tornare a farlo, cioè la serietà dei ragazzi, l'impegno dei ragazzi e anche il tenerci a fare bene in mezzo a tutte le difficoltà di questa stagione che hanno sempre dimostrato. Ma la domanda è questa, un altro allenatore avrebbe fatto meglio di quello che ha fatto Pioli fino adesso? È giusto continuare a muovere critiche al nostro allenatore o è una presa di posizione per un qualcosa che succede spesso nel mondo del calcio? Cosa succede spesso nel mondo del calcio? Succede che ad un certo punto ci si stufa di vedere le stesse facce, e cioè questa è la verità, ci si stufa di vedere sempre lo stesso allenatore, ci si stufa a volte anche di vedere sempre gli stessi giocatori, io ricordo anche i tempi di Ancelotti, tanto per non andare indietro, insomma con i racconti, ma ricordo i tempi di Ancelotti dove i social non c'erano, non avevano l'importanza che hanno adesso, discussioni sul fatto che ormai si era arrivati a fine ciclo, che si dovesse cambiare, che si era qua, che di là, e parliamo di Carlo Ancelotti, cioè uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio e del Milan. Quindi questo è un fattore da tenere in considerazione. La consunzione, la consunzione di un rapporto, ed è una delle ragioni che mi avevano portato a pensare che quello di Pioli fosse un ciclo finito, e tuttora continuo a pensarlo, è anche questo fattore qua, il fatto che i tifosi, il pubblico, i clienti, ad un certo punto si stufano, ad un certo punto si stufano e vogliono novità, vogliono qualcosa di nuovo, non accettano più nemmeno la novità proposta magari dallo stesso allenatore, perché non si può dire che Pioli, allenatore bravo e fortunato, e queste due cose vanno bene insieme, non si può dire che nelle difficoltà non abbia provato a fare qualcosa, non abbia provato a schivare il muro contro il quale stava andando a battere il capo, no? Ecco. Ma credo che sia anche questo un fattore importante da tenere in considerazione. La domanda sul Pioli, su qualcuno che avrebbe potuto fare meglio di Pioli, sì o no, è una domanda pericolosa. Voglio conoscere la vostra opinione, lo scrivete nei commenti, ma è una domanda pericolosa perché presuppone il fatto che si faccia un'analisi sulla rosa della squadra. Quindi, se si dice che nessun altro allenatore avrebbe potuto fare meglio di Pioli, evidentemente si ritiene che questa squadra più di così non possa fare, e che anzi, nonostante la presenza di Pioli e una sua, per certi versi, confusione mentale, la squadra abbia fatto più di quello che, o comunque è in linea, diciamo, con quello che i ragazzi possono offrire. Se invece sottolineiamo il lavoro di Pioli e quindi consideriamo il fatto che ci si debba accontentare questa stagione del terzo posto, di una retrocessione in Europa League, di un'eliminazione della Coppa Italia, allora evidentemente le colpe sono di Pioli e quindi la squadra vale più dell'allenatore, ma è, ripeto, è un filo pericoloso sul quale si cammina perché a seconda di come la si pensi, si va da una parte o dall'altra, cioè si difende l'allenatore o si accusa la squadra. Per quel che mi riguarda, sarebbe importante conoscere un fattore, un fattore determinante in questa storia, e cioè quanta incidenza abbia avuto Pioli nella costruzione della squadra la scorsa estate. Quanto i suoi racconti di adesso, che sembrano dei racconti di un allenatore che si è reso conto che diverso da così non si può fare, mi riferisco al discorso del centrocampo, al discorso della famosa frase, è meglio che facciamo un gol, dobbiamo fare un gol più degli altri perché è meglio. Ecco, quanto Pioli effettivamente ha contribuito a costruire questa squadra? Quanto la sua voce, le sue richieste sono state esaudite dalla società e sono state seguite, perché guardando il Pioli di adesso, che come ho già avuto modo di dire, è un Pioli molto interessante nelle sue conferenze stampa, la sensazione è che, insomma, chi sosteneva che la scorsa estate ci sia stato un grande racconto intorno alla figura del coach, intorno alla figura di un Pioli plenipotenziario, insomma, questa storia forse fa un po' acqua, se analizziamo le parole dell'allenatore adesso. Quindi credo che, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare, al di là delle simpatie o delle antipatie, il Milan quest'anno abbia dei problemi strutturali che potevano essere corretti solo in un modo che però probabilmente non avrebbe funzionato questa squadra, cioè quella di renderla una squadra difensiva, di renderla una squadra di difesa e di contropiede. Ma questo non poteva probabilmente essere fatto, vuoi per le caratteristiche dei giocatori, vuoi perché l'allenatore, appunto, il nostro allenatore non la pensa così e un altro allenatore magari avrebbe potuto trovare forse un pelino in più di equilibrio, ma sempre all'interno di una squadra che difficilmente, per come è stata costruita, di equilibrio può averne. Quindi, e qui proiettandoci un po' al mercato di giugno, ovviamente è molto lontano, ma neanche tanto, perché la pianificazione della prossima stagione sarebbe meglio cominciare a farla già adesso, sarà importante capire chi sarà l'allenatore e quale strada prenderà per cercare di dare a questa squadra quello che a questa squadra manca, l'equilibrio generale e l'equilibrio in fase di non possesso. Aspetto i vostri commenti, buona giornata a tutti.